Cosa suoniamo? Quel treno per Yuma. Uno. Due. Uno. Due. Tre. E... Quattro. Quel treno per Yuma. Scusa, ma a te com'è che ti è venuto in mente di comprare il sassofono? È l'unico strumento che so suonare. E quattro. Col treno per Yuma. Col treno per Yuma. Non so ne fai più lungo l'az weekend. ... ... ... ... Grazie a tutti.